buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento con il canale fed virus della fondazione fed stroke benvenuto anche alla nostra ospite di oggi che la dottoressa antonella lezzo antonella con uno con due z una sola immagino sia un errore frequente no allora questo appuntamento un appuntamento speciale perché si inserisce all'interno di alcune conversazioni che avevamo avviato già l'anno scorso che erano rientravano nel cappello del tema insieme per non perdere il filo quindi una serie di conversazioni di cui abbiamo già registrato due puntate che trovate sul nostro canale fed virus che riguardano la nutrizione in collaborazione con danone nutricia oggi continuiamo questa conversazione e la continuiamo proprio in occasione della celebrazione di questo periodo particolare che è questa prima settimana di febbraio quella che in inglese si chiama la feeding tube awareness week quindi la settimana internazionale della nutrizione persona per cui oggi parleremo sì di nutrizione e tematiche legate in particolar modo ai bambini con paralisi cerebrale infantile ma poi tratteremo anche altre problematiche come la disfagia e poi fino ad arrivare appunto a temi più specialistici quindi ci fa piacere avere la dottoressa antonella lezzo un facciamo subito un patto d'aula quindi ci diamo del tu così siamo più comodi bene l'altra informazione di contesto è che io rappresento un po questa comunità di genitori che per quanto sia estremamente informata attiva anche online sicuramente non ha una preparazione tecnica o specialistica quindi l'obiettivo di questi incontri è proprio parlare con gli esperti per approfondire quei temi di cui solitamente rimangono delle delle dovande in evase durante il colloquio in in ambulatorio quindi cerchiamo di essere il più semplici possibili ma andando a chiarire anche temi e termini che ci sembrano già assodati perché fanno ormai parte del nostro patrimonio ma che probabilmente non conosciamo così bene è vero è vero ma io sono sono contenta di aver ricevuto questo invito e vi ringrazio semplicemente perché penso che le associazioni di pazienti in modo particolare devono essere nostri alleati no in questa nostra battaglia perché la nutrizione è un argomento tanto caro a tutti però non valutata a sufficienza e spesso diciamo trattata compresa pochismo cosa che quando si hanno degli obiettivi ambiziosi non non si presta bene a svolgere il suo ruolo no adesso c'è sempre più attenzione nei confronti della della nutrizione che questa sia il più adeguato possibile addirittura addirittura raffinata potremmo dire ecco rispettosa dell'ambiente no delle risorse rispettosa di tutto non soltanto della diciamo della scientificità o degli apporti in senso strettamente tecnico ma della qualità di vita del paziente del modo di vivere del rispetto del diritto di vacanza del diritto di poter continuare a lavorare del diritto di andare a scuola tutte cose che di fatto sono possibili grazie agli sviluppi che la scienza di nutrizione clinica ha attuato con il supporto dell'industria con il supporto anche della della nostra sanità che ci permette di fare ovviamente un lavoro egregio diciamo che siamo anche privilegiati rispetto a qualche anno fa no sì siamo privilegiati e vi ricordo un dato molto semplice che ho scoperto un po di anni fa quando preparavo una una relazione sulla nutrizione artificiale domiciliare e scoprivo che nei paesi dove il diciamo il budget della sanità è al di sotto di una certa percentuale la nutrizione artificiale domiciliare non esiste e quindi cominciamo a dire dei dati diciamo grossolani però che sono la base il fondamento e quindi questo ci obbliga da un lato ad essere contenti appunto ad essere consapevoli della possibilità e dei privilegi che abbiamo e dall'altra però ci investe di responsabilità nell'utilizzarli correttamente e non sprecare risorse. È vero torniamo proprio al tema delle risorse facciamo un passo indietro Antonella ci racconti qualcosa di te la tua formazione così almeno inseriamo nel contesto di questa conversazione e dove stai operando adesso in quale in quale zona d'Italia sì io lavoro sono responsabile del servizio di dietetica e nutrizione clinica pediatrico dell'ospedale Regina Margherita di Torino che fa parte dell'azienda ospedaliera universitaria città della salute e della scienza di Torino. Lavoro in Piemonte dove si sa la nutrizione clinica in modo particolare la nutrizione artificiale domiciliare è svolta condotta con criteri di eccellenza e siamo una delle realtà delle poche realtà di eccellenza in Italia questo grazie alla sensibilità che la regione Piemonte ha sempre avuto nei confronti della nutrizioni della nutrizione questo lavoro iniziato nel lontano 1984 come sperimentazione clinica e poi è diventata legge regionale e quindi noi abbiamo una legge regionale che ci guida in tutto quello che riguarda la nutrizione artificiale che definisce oltre ai diritti anche i doveri di pazienti del centro prescrittore soprattutto individua i centri prescrittori che sono i centri esperti e solo questi centri esperti nella nostra regione possono prescrivere e monitorare e gestire la nutrizione artificiale domiciliare questa è una condizione veramente di di privilegio perché permette di lavorare con i criteri di massima diciamo tecnicità non so e anche in un contesto controllato regolamentato in un contesto controllato che da un lato il paziente permette ogni anno e per chiunque sia da ovunque sia residente nella regione abbia gli stessi diritti e le stesse presidi garantiti che abbia una un follow up una gestione esperta da parte del centro noi siamo reperibili cinque giorni lavorativi alla settimana in orario d'ufficio per i pazienti per le famiglie per qualsiasi problema e siamo reperibili sette giorni su sette per invece nutrizione parenterale domiciliare e questo è ovviamente abbiamo anche fatto un'indagine una survey di soddisfazione delle famiglie sia di nutrizione parenterale sia nutrizione artificiale abbiamo avuto delle belle soddisfazioni dei risultati molto molto buoni ovviamente l'abbiamo fatto anche per capire dove bisogna migliorare certo perché dove stavate andando e come ci stavate arrivando dici anche qualcosa su di te sul tuo sul tuo background sulla tua formazione perché si fa spesso confusione anche sui ruoli no la figura del medico la figura del medico nutrizionista la figura del gastroenterologo ti ringrazio di questa ti ringrazio di questa precisazione perché è molto molto importante io sono medico chirurgo sono specializzata in nutrizione clinica in scienza alimentazione con indirizzo nutrizione clinica quindi vuol dire sei anni di studio più quattro anni in specializzazione sì sì ho iniziato a non avevo pensato di lavorare in pediatria devo dire la verità poi durante la mia frequenza durante la specialità la residenza in pediatria ho visto che c'era tantissimo da fare a differenza dell'adulto questo succedeva nel lontano 2002 e ho visto che invece in ambito pediatrico c'era moltissimo da fare e quindi mi sono poi appassionata a questo e mi sono fermata in pediatria devo dire in questi vent'anni abbiamo fatto davvero un lavoro enorme enorme adesso la nutrizione clinica è presente in tutte le specialità dalla terapia intensiva neonatale fino alla chirurgia ai trapianti d'organo ai trapianti di midollo osseo ovviamente la nostra punta di diamante è la nutrizione artificiale domiciliare con in modo particolare l'insufficienza intestinale la nutrizione parentale domiciliare che sono veramente delle aree di vera eccellenza in campo medico arriviamo a parlare anche di questo quindi l'etichetta corretta è medico nutrizionista? se si vuole dire così esattamente diciamo correttamente sarebbe dietologo ok che differenzia il tecnico che si occupa di nutrizione e che si chiama dietista ok quindi era questa la distinzione che ci serviva per poi anche trovare le giuste informazioni sono sinonimi sono sinonimi però ho specificato il termine dietologo che identifica proprio il medico che si occupa di nutrizione clinica perché il termine nutrizionista viene utilizzato da diverse figure anche da biologi nutrizionisti o altre formazioni che non sono non appartengono al mondo della medicina quindi su questo ci tengo a fare chiarezza ora più chiaro senti entrerei subito nel cuore della nostra conversazione parliamo di piccoli pazienti parliamo con pazienti con disabilità neurologica per cui la prima domanda è quali sono gli obiettivi che ha l'alimentazione in questo tipo di pazienti e questo tipo di pazienti proprio per quanto riguarda l'alimentazione differisce invece rispetto a quelli che sono gli obiettivi dell'alimentazione nei pazienti senza disabilità bello iniziare proprio dalla normalità diciamo così l'alimentazione in realtà nei bambini con neurodisabilità ha lo scopo di assicurare tutti i nutrienti necessari e l'apporto calorico sufficienti per garantire la crescita e non solo la crescita statura ponderale ma anche lo sviluppo fisico e neurocognitivo e in questo io ho fatto un'affermazione che fin qui non si distingue non si non differisce da quella da quello che è lo scopo della nutrizione in un bambino con sviluppo normale mangiamo per crescere e per essere funzionalmente adeguati può sembrare banale ma non lo è e non lo è per due motivi principali il primo è che riuscire a farlo nel paziente con neurodisabilità potrebbe non essere semplice e non è semplice in realtà neanche nel bambino sano avere una nutrizione adeguata per quantità e qualità rispetto a quelli che sono i fabbisogni l'altro motivo è un motivo un po' più tecnico e afferma che le linee guida o i vari consensus quindi dati più scientifici in merito allo sviluppo dei bambini con neurodisabilità non identificano dei fabbisogni sostanzialmente diversi da quelli dei bambini con sviluppo normale quindi questo è il secondo motivo per cui ho fatto questa affermazione ovviamente occorre tener conto poi di particolari condizioni nel bambino con neurodisabilità che possono alterare questi fabbisogni come possono essere le contratture muscolari o la ridotta mobilità che ovviamente si poi perfezionano attraverso il follow up e il monitoraggio è pertanto fondamentale che questo monitoraggio avvenga fin da subito e possibilmente tenendo conto non soltanto della crescita staturo ponderale ma soprattutto delle capacità funzionali di questi bambini perché sono fondamentali in questo caso e tu dicevi su questo negli ultimi anni si sono fatti tanti passi avanti tanto che voi accompagnate la mamma e il bambino già dalla terapia intensiva nel Natale per cui c'è un affiancamento fin dalle prime fasi di sviluppo quindi nel caso proprio e capita per fortuna sempre più spesso che la diagnosi sia anticipata penso nel caso dei bambini con paresci cerebrali infantili che quindi ci siano già dei campanelli d'allarme spesso i campanelli d'allarme sono anche relativi a quest'area come il bambino si attacca al seno quindi quali sono le problematiche più frequenti che vengono riscontrate da questo punto di vista su questi bambini e nelle diverse fasi di sviluppo perché poi immagino che con la crescita allora devo fare una premessa cioè quella che lo stato nutrizionale è la base per garantire la salute non solo fisica ma anche le performances in questi pazienti questo non lo dobbiamo mai dimenticare l'abbiamo già detto in apertura all'inizio di questo non dobbiamo darlo né per scontato e non dobbiamo neanche ritenere che sia invece da trascurare e considerare la malnutrizione come parte di questa patologia perché così non dovrebbe essere e adesso vediamo nell'arco di questa chiacchierata di chiarirlo meglio volevo dire che l'elemento importante da sottolineare è che lo stato nutrizionale correla con la severità della compromissione neurologica ecco spiegaci bene questa frase cosa vuol dire ecco questa è una correlazione a doppio senso e significa che la patologia condiziona lo stato nutrizionale quindi più è severa la patologia più lo stato nutrizionale ne viene influenzato e ne può risentire ma è vero anche il contrario ovvero che la malnutrizione peggiora le capacità funzionali e la qualità di vita e la salute in generale del paziente con neurodisabilità beh rischiamo che si meschi un lupo per cui se mangio male poi sto male le mie performance non sono adeguate e via dicendo esattamente quindi mi premeva fare questa precisione perché noi da qui dobbiamo partire ed è questa la cosa alla quale io personalmente ma anche tutto il gruppo con cui lavoro dedichiamo veramente tanta fatica e tante risorse e spesso non ci sentiamo così ben capiti ecco è per quello che volevo partire allora assolutamente è necessario fare chiarezza su questo però mi sembra soprattutto in Italia un tema questo su cui le mamme italiane hanno massima attenzione quindi mi sarei aspettata di vedere questa alleanza già in corso fra il medico dietologo e la famiglia sicuramente c'è l'attenzione c'è il problema è quando poi bisogna prendere delle decisioni fare qualcosa per essere attivi nel attuare una nutrizione adeguata allora lì poi il problema diventa un po' più complicato e la percezione dell'importanza della nutrizione a mio parere non è ancora come dovrebbe essere ok ok va bene siamo qua anche per questo quindi per alzare questo livello di conoscenze esatto questo è molto importante perché lo scambio alla pari quindi di genitori che hanno lo stesso problema è fondamentale è di aiuto prezioso veramente dicevamo dei problemi che possono comparire il primo tra tutti quello più frequente è la disfagia questo può comparire precocemente a volte anche dalla nascita ma soprattutto può avere una evoluzione subdola e quindi nascondere molte insidie su questo vogliamo dire due parole poi ci torniamo sul tema disfagia però quali sono i campanelli d'allarme affinché anche i genitori che si trovano in questa situazione possano riconoscere un'eventuale problematica esattamente come si fa ad accorgersene allora per questo è fondamentale come sottolinea l'ultima consensus dell'ESPGAN in merito ai problemi gastrointestinali e nutrizionali nei bambini con neurodisabilità la cosa fondamentale è la valutazione multidisciplinare di questi bambini vuol dire oltre al nutrizionista dietologo e dietista deve esserci presente il pediatra deve essere presente la logopedista deve essere presente la fisioterapista e possibilmente anche lo psicologo oltre a tanti altri che magari la neuropsichiatra infantile che ce l'hai in cura esattamente dicevo che può avere appunto uno sviluppo subdolo perché può presentarsi con sintomi tipici come quelli diciamo correlati direttamente alla disfagia come lo stridore come la tosse durante i pasti però può presentarsi anche con sintomi del tutto a specifici il pianto l'irritabilità lo scasso di crescimento ci sappiamo essere un un tema molto importante nel nostro nel caso dei bambini con problemi neurologici esattamente quindi è importante che se la valutazione del paziente viene fatto da un team esperto queste cose anche se sono non riferite vengono fuori perché lo chiediamo alla mamma non deve essere la mamma che ci viene a dire guardate mio figlio tossisce ogni volta che mangia ogni volta che beve ok questo però non è io lo sottolineo perché purtroppo non è così facile da attuare nel senso che abbiamo sempre da combattere come tutti con le risorse e con il tempo e con le difficoltà però sappiamo almeno dove vogliamo arrivare e dove è possibile questo e ovviamente rappresenta il gold standard ok la prima difficoltà la prima diciamo manifestazione della disfagia solitamente è quella per i liquidi ok liquidi vuol dire anche latte quindi anche in fase iniziale di perché i liquidi hanno la capacità di andare ovunque e sono difficili da trattenere insieme mentre il bolo cremoso rimane più legato in bocca e può essere gestito con facilità i liquidi vanno ovunque e quindi bisogna essere più competenti avere delle competenze orali buone quindi è strano che noi iniziamo lo svezzamento più tardi con qualcosa di solido beh l'apparato orale del bambino è ovviamente predisposto a questo però poi l'interruzione della normalità fa in modo che questo sia il primo anello a saltare questo si può correggere ovviamente attraverso l'utilizzo degli addensanti che sono delle polveri senza gusto senza odore senza sapore per cui si possono semplicemente aggiungere all'acqua senza che cambi la loro anche senza apporto calorico quindi anche senza apporto calorico o molto molto minimo perché sono comunque delle fibre a base di amido che sono invece hanno la capacità appunto di rendere un pochino più consistenti i liquidi tutti i liquidi ora la consistenza delle bevande addensate non è necessariamente gelificata perché siamo abituati a diciamo associare subito il concetto dell'addensante all'acqua gelificata non è necessario che sia gel gel vuol dire l'ultima consistenza ottenuta cioè il cucchiaino o il cubetto che si è prelevato sta in piedi da solo come fa il gel potrebbe semplicemente essere avere una consistenza sciropposa e questo permette già di tenere più insieme sempre liquida però più addensata ma sciropposa ok questo è importante da sapere perché spesso i genitori si rifiutano di somministrare anche l'acqua addensata perché pensano che i bambini possano non gradirla possano un piacere ci sono degli accorgimenti semplici come per esempio proporre queste bevande fresche da frigorifero non magari a temperatura ambiente oppure addensare altri liquidi come tisane come succhi di frutta che possono essere ovviamente più gradevoli più graditi e questo ci è molto utile perché uno dei problemi principali che questi bambini hanno più ovviamente manifesta la disfagia e più questo problema diventa importante è il ridotto apporto di liquidi quindi è importante che loro trovino una strategia per somministrare questi liquidi dicevi anche lo stesso avviene a proposito del latte anche non solo per e quando il bambino è lattato al seno quindi non è attraverso la formula anche su quel caso lì si può allora se la disfagia è documentata se la logopedista ci avverte che il liquido non viene ben gestito e c'è la noi chiamiamo penetrazione nelle vie aeree di goccioline di liquido che invece di andare nell'esofago prendono l'altra via a fianco adiacente che è quella della trachea dei bronchi allora è obbligatorio che non ci sia più l'allattamento al seno ma il latte materno può essere tirato e ispessito con l'ispessente che è particolare e che si usa nei primi anni di vita poi ci sono man mano diverse formule esistono delle consistenze pronte per esempio l'acqua densata o l'acqua gelificata ma esiste anche appunto la polvere da ottenere la densità che è più indicata al proprio bambino dicevo che è importante questo apporto idrico perché l'altra diciamo caratteristica l'altro problema che incontriamo molto spesso nei bambini con neurodisabilità è la stipsi bellissima esatto e la stipsi è uno dei problemi diciamo che colpiscono la stragrande maggioranza dei pazienti direi forse non se ne non se ne salva nessuno ecco da questo problema bisogna anche ricordare che il trattamento cosiddetto classico cioè con l'utilizzo di fibre o di lassativi potrebbe essere non soltanto non efficace se non c'è sufficiente apporto di acqua ma a volte dannoso perché perché questi bambini hanno una spesso una dismotilità cioè un'alterazione della capacità dell'intestino di contrarsi in modo sistematico periodico come fa normalmente l'intestino e quindi se noi diamo tante fibre possiamo creare un impatto intestinale difficile da togliere se non c'è sufficiente apporto di acqua quindi non dobbiamo dimenticare l'acqua che spesso appunto è difficile concede poco spazio al apporto corretto di acqua anche il reflusso gastroesofageo perché quando il bambino è sempre lì che fa un rigurgitino o addirittura il vomito viene voglia di dare meno possibile e quindi quello che si penalizza per primo perché vogliamo dare il latte vogliamo dare l'alimento quello che si penalizza è l'acqua e poi ci troviamo appunto in un circolo vizioso dove meno bevo meno riesco a far funzionare bene l'intestino più ho bisogno di una macchina complicata e meno mangio perché un intestino che non funziona non permette neanche di alimentarsi poi no ma no esatto dicevamo una macchina complicata che si interrompe un equilibrio esatto 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 questo poi l'altro l'altro problema che è sia un segno indiretto della disfagia se vogliamo sia una manifestazione vera e propria della disfunzione orale che caratterizza la patologia neurologica e il prolungamento della durata dei pasti spesso le famiglie le mamme in particolare ma anche i papà perché ormai i papà sono parte attiva insomma non è più da escluderli passano molte ore della giornata a cercare di alimentare i propri bambini che fanno fatica ad alimentarsi questo da un lato diventa frustrante per i genitori dall'altro lato toglie tempo utile a tante altre buone attività che possono essere riabilitative ma anche solo divertenti anche solo anche forse nelle fasi di gestione e quindi di avvicinamento al passo successivo poi anche ecco ma soprattutto ma soprattutto diciamo tralasciando volendo anche l'aspetto un po' filosofico sono fonte veramente di stress e di fatica e quindi è questo il motivo per cui l'ESGAM nell'ultimo consensus del 2017 ha promosso diciamo così questo elemento quindi il prolungamento della durata dei pasti oltre le tre ore come un'indicazione nella nutrizione artificiale ok oltre le tre ore per il singolo pasto no per tre ore nella giornata nell'arco della giornata quindi vuol dire che la colazione il pranzo e la cena devono rientrare in queste ovviamente non bisogna prenderlo diciamo alla lettera però significa che se io tra colazione pranzo spuntino e cena dedico più di tre ore della mia giornata significa che c'è qualcosa che non va e questo poi è un motivo per l'instaurarsi della malnutrizione ovviamente perché si riducono gli apporti e si rientra di nuovo in uno di quei circoli viziosi di cui dicevamo prima quindi più il bambino è debilitato più è malnutrito e meno mangerà meno avrà appetito e meno avrà la capacità anche di alimentarsi oltre all'appetito la malnutrizione anche è uno dei problemi stavamo facendo così in ordine un po' un elenco dei problemi la malnutrizione è anche un problema che coinvolge quasi la totalità di bambini con neurodisabilità perché definiamo malnutrizione vuol dire che il bambino non assorbe un adeguato apporto calorico come si definisce? no la malnutrizione è una condizione patologica è proprio un'entità nosologica che si definisce come un disequilibrio tra fabbisogni e apporti che può manifestarsi con alterazione delle funzioni corporee e con oltre all'arresto della crescita sia in peso sia in statura con modificazione degli outcome di salute questo ha poi anche delle caratteristiche diciamo di come possa essere misurato diagnosticato che lo racconteremo poi dopo però è importante farlo perché spesso anche nel bambino con sviluppo diciamo standard con sviluppo tipico spesso il pediatra lo pesa soltanto e non sta a guardare le curve perché si affida al proprio alla propria esperienza al proprio giudizio in questo caso è fondamentale misurare e pesare il bambino e plottare le sue misure antropometriche sulle curve di crescita quindi ricordiamo anche questo la visita pediatrica prevede anche dei controlli tipici in alcune fasce di età del bambino fino ai 12 anni forse si fa il controllo delle curve di crescita o anche in realtà le curve di crescita coinvolgono tutta l'età evolutiva fino ai 18 anni ok quindi è necessario che nella visita pediatrica vengano appunto rispettati questi criteri di somministrazione di test di misurazioni si si dicevo che questo è un problema dicevamo però è anche fonte di soddisfazione per noi perché è stato fatto tantissimo siamo molto più sensibili siamo molto più attenti allo stato nutrizionale dei pazienti e questo è stato il motivo per cui l'aspettativa di vita di questi pazienti è aumentata nettamente noi abbiamo spesso transitato e continuiamo a farlo transitiamo i bambini che prendiamo in atto in carico dalla nascita alle cure dell'adulto con tutti i problemi che accompagnano la crescita di questi bambini per cui non soltanto diciamo questo è stato ottenuto ma questo ci rende appunto responsabili e consapevoli nel doverlo fare meglio perché solo in questo modo è possibile fornire un trattamento e una qualità di vita adeguata e di vantaggio perché altrimenti quando si arriva a dover pensare a delle cure nutrizionali solo quando non siamo più in grado di farlo e nessuno riesce più a farlo qui diventa veramente un po' finalistica la cosa sì no è interessante che tu abbia parlato di quest'ultimo aspetto nell'ambito delle problematiche relative alimentazione e bambini con problemi del neurosviluppo perché si pensa spesso che il tema della malnutrizione non sia un problema che riguarda i paesi sviluppati ma che sia un tema di altri ambienti lontani da noi quindi difficilmente si corrella questo invece con lo stato di salute dei nostri bambini poi bambini che lo dicevi anche tu hanno la giornata impegnata anche in altre terapie in altri trattamenti per cui questo stato di disagio magari generato da una malnutrizione un rapporto inadeguato fra il fabbisogno e gli apporti può generare delle difficoltà anche a portare avanti un adeguato piano riabilitativo su altri ambiti l'ambito ortopedico o del linguaggio certo perché poi a tutti i problemi che abbiamo citato si possono aggiungere altri uno di questi il reflusso gastroesofageo che anche questo è molto frequente in questi pazienti l'eziologia può essere come noi chiamiamo multifattoriale avere molte cause dalla posizione supina cronica al ritardato svuotamento gastrico perché lo stomaco svuota lentamente perché muove poco la stipsi appunto la dismotilità intestinale o le anomalie schelettriche possono essere tutti i fattori che si influenzano fra di loro esatto e per questo diciamo sapendo che è un problema molto molto frequente siamo invitati da quest'ultima consensus dell'ESCAN anche a iniziare il trattamento direttamente del reflusso al contrario di come invece si fa nel bambino non affetto da patologia neurologica anche senza aver fatto esami per diagnosticare il reflusso che ovviamente rappresentano il gold standard quindi se noi potessimo fare una pH impedenziometria o potessimo fare un'endoscopia che sono degli esami abbastanza invasivi no? sono degli esami la pH impedenziometria necessita solo di un sondino che arriva fino all'esofago e misura tutto il pH che si trova in esofago e poi permette di ricostruire un pattern diciamo così una caratteristica perché il reflusso è anche fisiologico un po' di contenuto gastrico sale sempre in esofago ma non è una patologia se non ha delle caratteristiche cioè se non è troppo acido o se non è troppo alto ok e il trattamento del reflusso è sostanzialmente con inibitori di pompa protonica bisogna però stare attenti mi sento di sottolineare che sono spiegaci sono dei farmaci che cosa sono si chiamano così sono dei farmaci veri e propri farmaci si prendono come polveri come pasticche possono essere in forma diversa possono essere anche pastiglie orosolubili che quindi si sciolgono in acqua e possono essere prese anche con piccole piccole quantità di acqua ma mi sento di sottolineare che è importante valutare l'efficacia ok perché se non abbiamo fatto un esame che ci diagnostica esattamente il reflusso iniziamo il trattamento e la sintomatologia non scompare probabilmente la causa del malessere del bambino non è il reflusso quindi questo ovviamente è importante farlo non dobbiamo andare avanti a trattare all'infinito senza mai sospendere col bambino che non ha corretto niente rispetto a come stava prima quindi attenzione anche agli altri segnali clinici che ci dà il bambino senti prima di andare avanti tu hai citato più spesso l'ESGAN vuoi ricordare che cos'è questo è la società sì è la società più prestigiosa europea la società europea di gastroenterologia e patologia e nutrizione pediatrica ok quindi è una società scientifica scientifica tutte le società scientifiche hanno questo questo compito che di tanto in tanto o alla base di evidenze quindi quando ci sono evidenze scientifiche su base di lavori di trial clinici evidenze molto forti si possono anche fare delle linee guida che sono costruite in modo proprio di raccomandazioni altrimenti quando le evidenze sono meno diciamo forti meno documentate allora si fa una consensus vuol dire che un certo numero di specialisti che la società scientifica individua e riconosce per la loro esperienza eccetera si esprimono in materia di argomenti sui quali non c'è certezza e non c'è comportamento univoco e questi sono le nostre guide perché altrimenti ognuno farebbe solo come sa e questo ormai non è più ammissibile quindi le fonti che ci hai citato sono quelle che poi hanno dato origine appunto agli atti delle consensus conference o alle linee guida e sono quelle che voi applicate poi nella vostra quotidianità sì io ho citato l'ESPLAN perché ovviamente c'è un documento completo su tutte queste tematiche sul quale l'ho citato ma anche la SIGEMP la società italiana di gastroenterologia e nutrizione pediatrica nel 2019 ha prodotto un testo un documento che è stato poi pubblicato sul giornale della SIGEMP proprio in merito a queste tematiche che stiamo noi toccando oggi bene più chiaro sicuramente senti abbiamo parlato delle problematiche più frequenti parliamo del follow up che cosa si fa per prevenire poi questi stati per prevenire la malnutrizione che abbiamo capito essere poi il grande problema no? esatto esatto allora nel documento che citavo di SIGEMP che è stato pubblicato nel 2019 la prima raccomandazione è quella della valutazione multidisciplinare del paziente e di due scopi iniziali quello di valutare lo stato nutrizionale del bambino e quello di valutare la sicurezza dell'alimentazione queste due cose devono essere in parallelo condotte quindi non è sufficiente valutare la crescita bisogna anche valutare se l'alimentazione del bambino che abbiamo davanti è sicura oppure no proprio per i motivi che abbiamo detto prima come si fa la valutazione nutrizionale? attraverso le misurazioni le misure del corpo misuriamo il peso e misuriamo l'altezza o la lunghezza quando il bambino è piccolo fino ai due anni si parla di lunghezza e poi se si può mettere in piedi diventa altezza quella dell'altezza è tutt'altro che è semplice nel paziente con neurodisabilità perché ci sono degli elementi come la scogliosi come la spasticità come le contratture che non ci permettono di stendere bene tutto il corpo del bambino e misurarlo nella sua diciamo integrità allora c'è soluzione anche a questo esistono le misure segmentali le cosiddette misure segmentali vuol dire che noi misuriamo soltanto una parte del corpo che può essere misurata con sufficiente precisa azione quindi lato superiore esatto per esempio l'altezza del ginocchio l'altezza della tibia o dell'ulna della prima parte dell'avambraccio e attraverso apposite formule che sono state elaborate appositamente si può calcolare l'altezza di quel bambino per quanto riguarda il peso anche questo può rappresentare qualche problema finché il bambino è piccolo non c'è problema si prende e si mette sulla bilancia pesa bambino e non ci sono problemi quando poi il bambino è più grande bisogna fare la doppia pesata la doppia pesata è non sempre così agevole la doppia pesata vuol dire prima e dopo il pasto? no vuol dire prima la mamma o il papà con il bambino in braccio poi il papà o la mamma da soli e si fa per differenza il peso del bambino ok ok perché quando supera i 10 kg e non ci sta più sulla bilancia piccola bisogna fare la doppia pesata quindi non ci sono altri modi per pesare una persona che dal punto di vista motore può avere degli impedimenti stavo per dire proprio quello in realtà sì esistono le bilance a pedana che noi per esempio usiamo regolarmente questa pedana permette di salire sulla sulla stessa con la carrozzina ok ok e quindi di fare la tara rispetto al peso della carrozzina noi facciamo una volta oppure ogni volta che si cambia questa questo dispositivo questa carrozzina pesiamo la carrozzina da sola ci segniamo questo peso e poi le volte successive che vediamo il bambino è sufficiente che questo vada sulla bilancia insieme alla sua carrozzina e noi abbiamo il peso preciso del bambino ovviamente bisogna attrezzarsi per averlo sono delle bilance ovviamente che occupano un po' di spazio però si può fare ed è necessario direi ci sono altre misurazioni che interessano voi i medici dietologi come la circonferenza cranica o altre parti del corpo o solo peso altezza peso altezza e circonferenza cranica sono fondamentali soprattutto nei primi tre anni di vita anche la circonferenza cranica è una delle misure di crescita salvo puoi avere delle particolari diciamo caratteristiche in caso di microcefalia o in caso di idrocefalo dove ovviamente non risponde ai parametri normali ai parametri normali un'altra cosa importante a proposito di misurazioni sono le misurazioni che ci permettono di rilevare la composizione corporea ovvero quello di sapere non soltanto quanto pesa il bambino ma quanto di questo peso in termini percentuali è fatto da massa magra quindi muscoli ossa eccetera e quanto è fatto da massa grassa e questo è anche molto importante da sapere perché provate a pensare come valutereste un semplice aumento di peso di un bambino specialmente se in corso di intervento nutrizionale se venite a sapere che è la massa grassa che è aumentata rispetto al controllo precedente allora questo ci permetterebbe rispetto alla semplice realizzazione del peso che ci renderebbe contenti di aver aumentato il peso se invece veniamo a sapere che è solo la massa grassa che è aumentata dobbiamo modulare l'apporto calorico perché sia funzionale dobbiamo agire anche con la riabilitazione e via dicendo come si fa questa misurazione stiamo guardando sempre più in profondità allora la misurazione si può fare con diversi metodi il metodo anche qui più diciamo preciso più tecnico è uno dei metodi è la bioinfedenziometria perché esiste anche la la DEXA la valutazione della composizione corporea attraverso una densitometria ok però questo è un po' poco applicabile perché bisognerebbe nel bambino piccolo attuare un po' di sedazione ma non è necessaria diciamo nella pratica clinica non è necessaria la bioinfedenziometria svolge molto bene questo questo è un esame complicato non so assolutamente come avviene assolutamente no è un esame che rileva la composizione corporea attraverso la misurazione del passaggio di una corrente elettrica molto molto flebile meno di una pila di quelle che alimentano tipo un alimento non fastidiosa ecco no 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 assolutamente no si mette un piccolo cerottino un elettrodo che attraverso un cerotto si mette sulla mano un altro sul piede che passa attraverso questa macchina che misura e poi fa i calcoli quindi molto semplice non di nessun impegno per il bambino ovviamente bisogna essere attrezzati non soltanto per avere lo strumento ma per saperlo poi interpretare invece in modo più semplice chi non fosse dotato di bioimpedenziometro o di tecnico da bioimpedenziometro potrebbe per esempio non dimenticarsi di misurare la circonferenza del braccio oppure la plica precipitale che è lo stesso strumento che si usa poi per la malnutrizione dei bambini nei paesi in sviluppo quindi esatto queste due misure la circonferenza del braccio e la plica precipitale misurano diciamo in maniera abbastanza precisa se si effettua sempre dallo stesso operatore e sempre nello stesso modo così come le indicazioni dicono permettono di definire la circonferenza del braccio la massa magra la massa muscolare mentre la plica precipitale la massa grassa ok e questo attraverso anche delle formule è possibile ricavare la massa magra e la massa grassa del corpo in generale ma anche se non calcoliamo la massa magra e la massa grassa semplicemente monitorando lo stesso parametro noi possiamo renderci conto dell'evoluzione nel tempo di questi bambini c'è da dire che la composizione di crescita e la crescita in generale varia molto in base dicevamo alla severità della patologia neurologica ed è a questo che si riferisce il sistema di classificazione della patologia neurologica che si chiama gross motor function classification system quindi anche voi usate la scala gross motor anche per valutare le diverse classi e quindi in base alla misurazione dei parametri e alla classificazione gross motor voi andate a definire poi delle strategie quindi allora qui devo fare un altro spaccato una precisazione approfondimento le linee guida estran che dicevo raccomandano di riferirsi alle curve di crescita dei bambini normali anche per i bambini con la neurodisabilità nel senso che queste dovrebbero rappresentare l'obiettivo ok quindi anche se sono tutti sotto curva allora le curve specifiche per patologia quelle che citavi tu e che sono immagino tutti conosciate diversificate per classe di gross motor sì sono descrittive ma non rappresentano un obiettivo da raggiungere sono descrittive io so che rispetto al parametro standard tipico dovrei essere lì e quindi mi regolo rispetto allo scostamento no allora noi dobbiamo sempre puntare le curve normali ok dobbiamo invece fare riferimento alle curve di crescita tipiche cioè alle curve di crescita per patologia quando per esempio valutiamo la necessità di nutrizione artificiale perché non possiamo valutare la necessità di nutrizione artificiale sulle curve di crescita normale perché altrimenti sarebbero tutti candidati alla nutrizione artificiale ma c'è un dato in più che sono le curve di crescita per patologia cosiddette cliniche sempre elaborate dal gruppo dell'Università della California che ha individuato una un'area particolare posizionata in basso rispetto a queste curve di crescita tipiche che è detta area di criticità quindi gli autori suggeriscono sulla base del fatto che hanno misurato migliaia di bambini semplicemente di evitare di trovarsi in quest'ambito in questa zona critica me la immagino come una zona rossa un fascione rosso in cui se arrivo lì posizionato nella parte più bassa anche delle curve tipiche perché se ci si trova lì si rischia di avere più infezione più ricoveri meno aspettativa di vita e tante altre diciamo effetti negativi ovviamente questi sono i pazienti malnutriti molto malnutriti ok quindi noi dobbiamo articolare il il nostro giudizio proprio in base al sapere tutto questo ed è per questo che è bene affidarsi a centri esperti e non sono molti però Antonella ci confermi in Italia se tu dovessi mappare così a grandi linee tu mi hai parlato di Torino dove sei tu abbiamo intervistato in passato anche la dottoressa Spagnolo quindi su Napoli possiamo dare altri riferimenti perché poi per le famiglie che notoriamente sono abbastanza mobili per cui si spostano facilmente sapere quali sono i centri valutati come centri di secondo terzo livello o comunque più esperti su questo tipo di valutazioni sì ce ne sono ce ne sono diversi ovviamente l'organizzazione varia da centro a centro varia da regione a regione quindi non tutti sono organizzati allo stesso modo però della buona nutrizione si fa al Meyer di Firenze al Gaslini di Genova al Bambin Gesù di Roma a Trieste al Burlo Garofalo di Trieste esatto ci sono citate nomi che sono molto familiari nella vita di queste famiglie quindi in linea generale diciamo l'ospedale pediatrico è un ospedale già però ci possono anche essere centri di pediatria questi che io ho citato sono centri esperti in nutrizione artificiale in generale anche in altri ambiti ci possono ovviamente essere anche altri centri specificamente dedicati magari a bambini con neurodisabilità a Bologna a Reggio Emilia ne conosco diversi quindi non è così difficile raggiungere dei bravi ecco bisogna proprio informarsi su come operano cosa fanno gli specialisti e chi c'è che ci lavora e quando tu prima citavi l'ESPGAM l'ESPGAM e la SIGEM esistono sui siti di queste società scientifiche anche delle mappature di questi centri cioè magari scritto perché questo potrebbe essere qualcosa di utile per le famiglie sapere che magari è più vicino casa te lo diamo come obiettivo vai in missione per noi va bene non è non è semplice perché bisogna per fare una un elenco o una classifica bisogna avere dei criteri certo che ancora non abbiamo però anche solo sapere c'è quel professionista quindi quel titolo di studio c'è la bilancia pedana che mi dicevi tu anche l'attrezzatura l'insieme di questi fattori rende già la vita della famiglia più più comoda diciamo certo certo